E nonostante tutto, nonostante il Covid che ha inginocchiato l'umanità, nonostante la povertà nel mondo che comunque continua ad esistere, nonostante la fame nel mondo che continua a mietere vittime e submittime e nonostante Biden che si diverte a perculare Putin cercando in qualche modo di scatenare la terza guerra mondiale, speriamo non anche la quarta, eccoci qua in questo nuovo video sul mio canale. Se non sbaglio questo è il terzo video, sì ce l'ho qua davanti, è il terzo video, quindi in realtà sarebbe il secondo, ma noi continuiamo a dire che è il terzo perché fa più figo, fa più influencer. Allora, come richiesto da molti, ho finalmente messo il cellulare in posizione orizzontale perché ha detta di molti, non fa figlio, Michele, sì, mi sto riferendo a te, quindi ciao Michele, ti saluto, seguitelo su Instagram, Michele Anastasio. Niente, io in questo video in realtà volevo, diciamo, trasformarlo in un video spogo, ecco. Allora, come ho detto, siamo al nono giorno di zona rossa, brutale. Nono giorno di zona rossa. Non si può fare nulla, non puoi uscire di casa se non per necessità prime, come ad esempio andare al supermercato, se stai collassando o basta, cioè perché non esistono altre necessità prime, a parte la salute e il cibo. E niente, io sto capendo che sto assumendo degli atteggiamenti sbagliati per la mia vita. Per esempio, ho un problema molto serio, non mi riesco a staccare dal letto. Io, la prima ora di ogni giorno, dovrei collegarmi alle 8 e un quarto a lezione e non mi riesco ad alzare dal letto, cioè come se avessi un magnete che mi tiene attaccato al letto. È una cosa brutale perché io sono molto attivo, però questa zona rossa barra quarantena mi sta ufficialmente distruggendo. Dopodiché sto assumendo, a parte che mangio come uno sprocetato, cioè proprio come un demo cristiano e quello proprio, vabbè, meno male che faccio sport, almeno quello. E dopodiché ho notato che sto assumendo una cosa che, sto assumendo un atteggiamento proprio sbagliato, è una cosa che a 18 anni non mi sarei mai aspettato. Sto assumendo il tipico comportamento di un cinquantenne in menopausa, cioè un uomo in menopausa, capito? Ho fatto un mix praticamente. Allora, innanzitutto partiamo da una cosa che mi ferisce molto e sinceramente non capisco dove sbaglio. Ogni volta che mi alzo da una sedia, dal letto, dalla poltrona, dal divano, dico hopla. Se lo so, in questo momento voi vi starete chiedendo perché a 18 anni senti la necessità di dire hopla. Questo modo di evidenziare il gesto dell'alzarsi, eppure, eppure lo dico. Hopla. Hopla. Cioè una parola così semplice, hopla. Mi sarei aspettato di dirlo verso, per la prima volta, verso i boh 60-70 anni, invece a quasi 18, a un mese dai miei 18 anni dico hopla. Scusate, io non volevo offendere l'umanità in questo modo, io so che contavate su di me, però l'ho detto e lo dico spesso. Poi odio qualsiasi tipo di rumore. Cioè ogni rumore che sento per casa è un motivo per litigare, però mi piace litigare. Cioè nel senso mi sta crescendo una rabbia dentro e quasi cerco la litigata. Cioè vedo mio fratello che passa per il corridoio e dico oh dove cazzo vai, eh, senza il permesso. Dove vai senza mascherina, ma Fede siamo in casa. Eh la devi portare lo stesso e gli tiro un ceffone, cioè così a cazzo, non c'è un motivo. Oppure tipo la mattina, o in generale durante tutto il giorno, però in particolare la mattina, sono irrascibile come un cinquantenne. Praticamente per ogni cosa c'è un vaffanculo. Tipo mia madre l'altro giorno, ve lo giuro, l'altro giorno mi fa appena svegliato buongiorno amore, che giornata hai davanti, hai tante cose da fare, sarà una giornata faticosa. Io guardo mia madre tipo zombie così. Mamma non cagare il cazzo. E là è come c'è una litigata proprio brutale. E quindi questo è anche un appello al governo italiano. Guardatemi. Ho due occhiaie che sembro un tossicodipendente, ok? E penso che la droga più forte che ho provato in vita mia sia stata l'acqua frizzante. Dopodiché mi appello a voi perché, cioè, sarebbe il momento di smetterla con questa cosa e di ridarci una vita normale. Cioè il sole fu... no, oggi no. Vabbè, però... Spera, stamattina... Però stamattina ci stava il sole. Stamattina ci stava. È il momento di liberarci. Cioè, per favore, covid, vattene via. E il governo italiano mandacelo via. Ti prego, trova un modo. Inventatelo, ti prego, perché io non ce la faccio più. Penso tutti gli italiani e tutti quelli che stanno per vedere questo video penseranno la stessa cosa che sto dicendo in modo stupido su questo video. Ovviamente, che dire, la zona rossa continua e questo video mi è stato richiesto da degli amici che mi hanno detto ti prego, fai qualcosa su questo canale, almeno ci divertiamo, ti possiamo prendere per il culo. Però almeno ci intratteniamo, facciamo qualcosa. E quindi, niente, li ho accontentati e questo è il risultato pietoso, ovviamente. Niente, a breve però mi voglio comprare una telecamera. perché voglio fare le cose un po' più professional. Magari metto qualche effetto speciale, qualche canzoncina. Poi, tipo, scrivetemi nei commenti di che cosa parlare. Tipo, qualche argomento. Dai, cioè, a una certa finiscono, nel senso, tutti parlano di tutto. Io vorrei fare un po' il tuttologo, quindi... Però non so un cazzo, quindi... Però mi posso informare. Vogliamo fare ripetizioni di matematica? Non scegliete me. Non scegliete me perché ho due in matematica. Due meno, forse. Al compito no, all'ultimo compito ho preso quanto mi ha detto che mi ha messo due meno. Sì, esattamente due meno. Però non me l'ha fatto valere. Fallita. E no, saluto la mia professoressa di matematica. E niente, quindi è stato bello trascorrere questi sei minuti del mio tempo, del vostro tempo, che vi ho fatto sprecare effettivamente. Sei minuti a 39 e 40 e 41 e 42 e 43. E niente, vedi che i secondi vanno avanti. Perché il tempo, il tempo scorre e tu non devi perdere tempo. Non devi fare come faccio io, non devi perdere tempo. Tu devi pesare il tempo. Ovvero, lo devi valorizzare. E devi dare l'importanza che merita. Quindi nel dubbio, per non farti perdere altro tempo, finisco qua il video. Ci vediamo in una prossima, boh, come possiamo definirlo? Video? Stronzata? Momento sfogo? Diciamo così, dai. E niente, ci vediamo alla prossima clip. Ciao ragazzuoli.